Musica Salve a tutti i spettatori e benvenuti in questa nuova lezione di CSS Ebbene oggi vediamo come customizzare le nostre liste e le nostre tabelle Per fare un esempio la scorsa volta abbiamo creato questa, la scorsa volta inteso nell'HTML Abbiamo creato questa lista, certa no questa l'ho ricreata io sul momento perché avevamo lasciato solo questa E poi questa tabella qua che già in realtà l'abbiamo appena customizzata In realtà lavoreremo magari su questa tabella qui per dargli un design un pochettino più definito E ne andiamo prima a vedere il design per quanto riguarda le liste, cosa possiamo fare effettivamente Come vedete la nostra sezione HTML è questa dove io gli ho assegnato la classe list E noi oggi andremo a lavorare prima di tutto sull'UL che ha la classe list Come vedete gli ho già dato il colore black e il background gold come abbiamo effettivamente visto poco fa E adesso andiamo a vedere cosa possiamo fare riguardo il design Innanzitutto possiamo customizzare i pallini che ci sono utilizzando list style type Questo parametro ci permette di avere una serie di opzioni come ad esempio circle E se noi adesso andiamo a refreshare vediamo che abbiamo dei tondini al posto dei pallini Dei cerchietti insomma L'altra opzione può essere square Un erro mette dei quadratini Esattamente Oppure dei termini più specifici come upper roman Conosciamo i numeri romani come li possiamo mettere effettivamente nell'UR Oppure che ci mette delle lettere piccole Però abbiamo visto che in realtà lo possiamo fare tranquillamente con i type Quindi alla fine l'unica nuova scoperta di questo è lo square o il circle Abbiamo anche la possibilità con list style image di E poi url come abbiamo fatto per il background e qua il percorso dell'immagine Di inserire effettivamente un'immagine che dia delle icone qua Ora chiaramente se riflessiamo dalla null fa diventa quello di default Perché non trova l'immagine Nel momento non ho un'immagine così piccola Cioè più che piccola adatta per fare degli scarabocchini Mettere delle concine così Però se voi l'aveste basta semplicemente che mettete l'url qui E ve li mette per ogni riga della vostra lista Una cosa che può essere molto interessante Questo specialmente se andiamo a scrivere un testo molto lungo Ok? Perché altrimenti non si nota Cioè non riuscite a capire l'esempio Noi andiamo a capo ogni volta Ma tramite questa proprietà File position Abbiamo la possibilità di default di mettere outside E quindi non cambia nulla perché appunto è il settaggio di default Ossia il margine è fuori dalla Altrimenti con inside Notiamo Sì effettivamente col fatto che è allineato al centro non si nota molto Ma c'è stato un piccolo cambiamento nell'allineamento dei pallini Effettivamente sono interni alla lista Quindi ogni riga comprende anche il pallino adesso Se noi adesso andiamo ad allargare di più vi faccio vedere ancora aggiungendo altro testo Allora questo intendevo notate che il pallino è interno alla lista Mentre con l'outside come l'avevamo messo prima il pallino rimane sempre esterno Vedete? Prima viene il pallino e poi c'è questa sorta di incolonnamento Con l'inside invece è interno Ovviamente sullo style possiamo anche mettere style type none Per far sparire prima non ve l'ho fatto vedere Che arriveremo comunque ad un dunque Per far sparire i pallini e avere una lista normalissima Se mettessimo tra l'altro anche il margin a zero Anche il padding Magari mettendo anche i punti e virgola dove servono Viene incolonnata se... Cioè normale come se fosse del testo normale Solo che si va uno sotto all'altro Adesso magari togliendo questo testo in più Torniamo ad avere una fotografia un po' più pulita Come notate bene non abbiamo più la lista spostata leggermente verso sinistra Ma è esattamente al centro E non ci sono i pallini e niente Lo possiamo tranquillamente usare Ovviamente distinguiamo il CSS dell'UL Che è la lista completa Con il CSS invece del LI In questo caso stiamo andando a modificare il CSS dell'I Che fanno parte delle liste con la classe list E se ad esempio noi ora andiamo a cambiare il background color Noteremo sicuramente questa Allora in questo caso che non abbiamo né il margine né il padding Vedete che ogni riga prende tutto quanto Ma se adesso tornassimo con... Che rappresenta l'UL rimane giallo Mentre il fatto che adesso si è spostata tutta la lista di là Sono le nostre righe Noi già le distanziassimo con un margine di 15 pixel Vedete notate che insomma dietro c'è tutta l'UL Che è la lista che ha il suo colore giallo Mentre le nostre righe hanno il colore rosso che abbiamo dato In realtà non c'è un granché da sapere su come customizzare una lista Possiamo mettergli sempre il border Tutte cose che abbiamo già visto Vi ho fatto vedere solo quel paio di proprietà standard Che è proprio delle liste Andiamo invece a vedere come customizzare più che altro una tabella Innanzitutto identifichiamo il nostro codice html delle tabelle Quello che prenderemo in considerazione sarà sicuramente questo Forse abbiamo già creato una classe table ok Quindi questa tabella gli andremo ad attribuire una classe custom table La prima cosa che voglio fare a questa custom table è dargli effettivamente un bordo E notare che cosa succede Le notiamo solid e facciamo Ok spero si veda abbastanza Refresciamo ok in questo caso abbiamo Tutto il contorno della tabella Adesso gli mettiamo anche del margine così almeno La notiamo bene perché si distanzia un po' E tutto il contorno della tabella effettivamente è Ora però io voglio dare un contorno a tutto quanto Quindi anche non solo a questo Quindi alla tabella in sé Ma anche a tutti i tr che gli appartengono Td che gli appartengono E come vedete ogni casella effettivamente adesso ha il suo riquadro Ora però io non voglio questa staccatura di margine Adesso ringrandiamo un pochettino anche la tabella Perché altrimenti non capiamo assolutamente nulla Ok vabbè adesso ci romperà un po' le scatole Questo fatto qua del bordo Che adesso non mi ricordo più neanche dove l'avevo settato Comunque abbiamo la nostra tabella E vediamo che effettivamente abbiamo questo problemino qua Questo lo risolviamo effettivamente con Si lo dobbiamo andare a mettere qua Border Collapse Due punti Collapse E in questo modo lui unisce Diventa una griglia a tutti gli effetti Sopra abbiamo la nostra header La testata insomma della tabella E qui vedete che anche se noi abbiamo messo il bordo tutti quanti Comunque lui li mette con questa proprietà Collapse Tutti quanti in separati Adesso andiamo a dare un background alla nostra Bella Mettiamo bianco ad esempio Adesso abbiamo effettivamente la nostra tabella Separata così com'è eccetera Adesso voglio dare un colore ad ogni riga Possiamo fare un colore alternato Di default lui avrà il colore che noi diamo alla tabella Quindi ad esempio bianco Ma poi possiamo fare questa cosa molto simpatica Possiamo andare a richiamare il tr Due punti Nth child E dentro mettere heaven Questo ci permette di dirgli che ogni riga che salta Gli mette questa proprietà qua Come ad esempio il background color Allora lo alterniamo bianco e azzurrino Come vedete la prima riga la fa così La seconda no Ma adesso se andiamo ad aggiungere Un altro paio di righe magari alla tabella Ok vedete Una riga si e una no Da questo design qui Da questo colore qua Quindi già questo è un buon modo per customizzare Insomma una tabella Di sicuro è già qualcosa di carino Insomma Adesso capita una cosa molto carina Che si può fare con le tabelle Ve l'ho spiegata la scorsa volta Al fatto dell'over Quindi ad esempio richiamando magari sempre il tr Due punti over Andare a cambiare il background È una cosa che di solito si vede Magari scurirlo un pochettino di più Ad esempio da grey passa Da white passa a grey Ok ci passo sopra Ovviamente solo quelli che sono L'identica cosa Qui che cosa posso andare a fare Cerchiamo sempre questa dicitura qua Due punti over E qui il background Stavolta magari lo vado a mettere Ognuno ha il suo secondo colore Mentre è selezionato Però a seconda del colore in cui è di default Cambia Detto questo signori Io in realtà vi ho già detto tutto Per questa lezione Vi ho detto proprio delle cose Abbastanza semplici Stiamo entrando sempre più Comunque nello specifico Vedete il CSS E c'è ancora tanta roba da mettere insieme Perché alla fine Notate anche che stiamo riutilizzando Sempre le cose che abbiamo visto all'inizio Quindi si può dire che in realtà Bene o male tutte le carte in regola Ce le abbiamo A parte le cose proprio specifiche Dobbiamo solo capire adesso Come utilizzarle per ogni elemento Anche se abbiamo ancora Delle cose da imparare A livello proprio di struttura Tanto è vero che insomma Questa non è una struttura vera e propria Basta solo vedere questi Che non sono neanche allegnati Detto questo signori Vi ringrazio per aver visto questo tutorial Vi invito a condividere questo video In modo tale che possa essere utile anche ad altre persone Iscrivetevi per nuovi video come questi Lasciate un like Noi ci vediamo nel prossimo video tutorial Grazie per la visione Grazie a tutti